Ed approvassero in giro sparse Renato De Paoli, appunti dall'Archivio di Stato di Vicenza 7 marzo 2023 a proposito del 1944-45, dall'Ufficio Patrioti di Vicenza, definito in preciempio AMG, Allian Military Government IMPR, Italian Military Patriots, rappresentative Governo Militare Alleato. Gli Uffici Patrioti si costituiscono dopo il 25-28 aprile 1945, come Uffici dapprima dipendenti dal Governo Militare Alleato, poi con il passaggio dei territori all'Amministrazione Italiana come Uffici Autonomi alle dipendenze del Ministero dell'Assistenza Postbellica. Per la provincia di Vicenza è nominato come rappresentante il militare italiano Patrioti o Patriota Capitano, poi Maggiore Pilota Rino Cipriani, a Ufficio in Contra San Marco 24, Palazzo Ex Vittorio. L'Ufficio inizia il 23 maggio 1945, in base all'istruzione arrivate il 21 giugno. Archivio di Stato Vicenza, disposizioni generali, protocollo numero 42 barra 2, anno 1945. Altri appunti? 1944-45, mio, acronimo di Ministero Italia Occupata, decreto luogo DDL 12-12-1944, numero 395, attribuzioni stabilite con decreto legge legislativo 28 febbraio 1945, numero 73. Non era ancora finita la guerra, ovviamente, ufficialmente finì nel 25 aprile 1945. Il Ministero ha il compito di tenere il collegamento tra il Governo e il CLNAI, Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, tramite il Comando delle Forze Alleato nei territori della RSI, della Repubblica Sociale Italiana. Il mio, Ministero Italia Occupata, è soppresso con DLL il 15 luglio 1945, numero 391, e le sue attribuzioni passarono al Ministero dell'Assistenza Postbellica. Ogni regione nominava il suo rappresentante militare italiano patriota, dell'IMPR. L'IMPR dà qualifica partigiana, assistenza e sussidio, premi per smobilitazione e certificati di Alexander, il famoso generale, disarma, raccolta armi, munizioni e automezzi. Provvede all'arruolamento di patrioti nell'esercito. Firmato, Maresciallo Harold Rupert Alexander, Comandante Supremo delle Forze Alleate nel Mediterraneo. Il 4 agosto 1945 nasce Gianni De Paoli, poi soprannominato Giovanni Paolo, mio fratello. La mamma e il papà si erano sposati nell'ottobre 1944. Torniamo all'archivio di Stato di Vicenza. La commissione conclude il lavoro il 31 agosto 1945. Erano già state sganciate le due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Spedisce la relazione il 7 settembre 1945 al centro regionale. ha esaminato 16.400 richiedenti. Ne ha, a riconosciuti, 10.500 cellude alla qualifica partigiana. Il capitano, poi Maggiore Rino Cipriani, presso l'undicesima regione del governo militare alleato, Apo, gestito dal Maggiore Pilota Carlo Quadrelli, competente su Belluno, Bolzano, Fiume, Gorizia, Padova, Pola, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona e Vicenza. Il 25 ottobre 1945, era già finita la guarda da un po' di mesi, l'ufficio è assorbito dal Ministero dell'assistenza post bellica con sede a Padova, presso le scuole Scalcerle, poi passato sotto la Prefettura Cipriani. Punto di domanda. Uffici competenti per, due punti, siamo nel 1945, certificati Alessander, certificati ai caduti e feriti per rappresaglia nazifascista. Altro argomento che trattava questo ufficio, liquidazioni, premi, partigiani. Ogni caduto lire 20.000, ogni ferito lire 10.000, più diaria giornaliera in ospedale a 50 lire. Partigiano lire 5.000, patriota lire 1.000. Grazie se mi avete ascoltato. Edar Production, Isole Sparse, Renato De Paoli. Oggi è febbraio 2023, 22, giorno 22, che giorno 22 è giovedì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.